Signori e signore! Erano spunti scritti un po' all'ingrosso, a volte un atto intero era un foglietto, via via cresceva il dialogo al soggetto come cresce la polpa intorno all'osso. In tal modo scrivevo e recitavo, lì domani i foglietti li strappavo. Mentre vi parlo già rivedo il mondo di quel teatro recitato a braccia. Quando pigliavo il pubblico di faccia, che poteva innalzarti o darti fondo, quando si preparava una commedia senza sollecitare l'accademia. Rivedo i palcoscenici minuscoli, sento stridio di quinte rattoppate, precipitare di scene arrotolate e il cicolio sinistro delle tavole, i lunghi viaggi in treni accelerati e in geli di vagoni affumicati. Rivedo in serie tutti i miei cappelli, le parrucche, i vestiti che indossavo, questo completo qua quando cantavo a fine atto i classici stornelli. Ci deve essere pure una giacchetta, eccola qua, facevo una macchietta. Grazie a tutti i miei!